Buonasauro, oggi vi voglio parlare dell'evento dedicato al venticinquesimo anniversario dell'uscita di Jurassic Park. Il 17 settembre, presso la Multisala OZ di Brescia, è stato festeggiato il venticinquesimo anniversario, le 25 candeline del film di Spielberg uscito nel 1993, attraverso un evento molto carino. Personalmente provo sentimenti un po' contrastanti nei confronti del circuito del Regno del Cinema, ma devo ammettere che ultimamente stanno imboccando una strada di tutto rispetto, attraverso degli eventi molto coinvolgenti e ben curati, come per esempio la maratona dedicata ai film di Harry Potter e appunto questo evento dedicato al nostro caro e amato Jurassic Park. Il compleanno di Jurassic Park è iniziato attraverso un'esposizione al piano terra del cinema di giocattoli vintage del brand appunto, nelle loro confezioni originali e conservati molto bene direi, e una postazione videogame con alcuni videogiochi di Jurassic Park The Lost World e altri titoli. Tutto questo curato dai ragazzi di Jurassic Park Italia. Spostandoci in sala abbiamo avuto l'occasione di ascoltare una suite dei temi di John Williams in versione bandistica, diciamo. Vedere per la prima volta il film al cinema per me è stata un'emozione travolgente e colgo l'occasione per rinnovare i complimenti alla multisala anche per la qualità audio e video della proiezione del film. Anche oggi termina qui una nuova puntata della Bottega dei Mostri e ci vediamo nella prossima. Buona saura.